ciao siamo all'edit bar di cefalù sono qui per presentarvi la nuovissima bottiglia di martini gold un vermuth nato dalla collaborazione fra la casa martini e rossi e la doccia e gabbana l'abbiamo appena provato noi e devo dire che è molto buono ha una gradazione leggermente superiore tra gli altri infatti è di 18 gradi è un retrogusto speziato davvero molto molto affascinante c'è anche un librettino con alcuni cocktail tra cui il martini gold royal molto buono una parte di martini gold una parte di champagne o di prosecco e una sfruttata di crema di cassis ora il nostro amico claudio ci preparerà il classico martini gold con ghiaccia e pezzina di limone un saluto dall'edit bar di cefalù un saluto dall'edit bar di cefalù ciao 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 ciao